E siamo ora al campionato d'eccellenza, si gioca la 33esima giornata ma si giocherà a Singhiozzo perché c'è il torneo delle regioni. Allora, queste le partite previste, Alfonsino e Castenaso ma viene rinviata, Cervia-Santagatese si gioca, Copparese-Imolese è rinviata, Faenza-Castel-San Pietro si gioca come si gioca Massa-Lombarda-Ribelle o Zanese-Tropical-Coriano. Rinviata a San Pierana-Romagna-Centro, si gioca invece Sassomar con i russi e rinviata a Savignanese-Misano e riposa al Sant'Antonio. Rispetto a questo stop forzato del Misano perché alcuni giocatori devono rispondere alle convocazioni appunto del torneo delle regioni, sentiamo il parere di Andrea Signorini, la sua compagine del dirigente Signorini era lanciatissima nella rincorsa dell'Alfonsine e chissà che questo non possa essere anche uno svantaggio. In testa c'è l'Alfonsine con 56 punti e a 52 il Misano, questa è la classifica, ma andiamo a sentire proprio Signorini. Noi diciamo che stiamo bene fisicamente, veniamo da un periodo e quindi questo rinvio di questa partita non ci voleva, infatti noi fino alla fine abbiamo cercato di non inviare la partita, però purtroppo abbiamo avuto negli ultimi giorni qualche infortunio di troppo e giocare, rinunciare a tre ragazzi e penso che sia difficile quasi per tutte le squadre. Quindi abbiamo deciso per questo rinvio della partita domenica alla Savignanese. Dopo di Pasqua per noi sarà un tour de force perché dall'11 di aprile col Coriano giocheremo tutte le settimane due partite, quindi a quel punto speriamo anche fisicamente di stare bene e vediamo cosa succede. Sarà una giornata fondamentale, una partita importantissima che si gioca, quella che dovrà affrontare il Coriano a Dozzano-Emilia contro l'Ozzanese, lo diciamo anche in virtù della classifica che vediamo assieme perché il Cervia assieme alla Copparese e all'Ozzanese si trova a 29 punti, quarto ultimo posto, a 28 punti c'è il Coriano, terzo ultimo posto, 25 Faenza, 24 Castel San Pietro e dunque è oggettivamente chiaro come ozzanese Coriano sia quasi uno spareggio per il mantenimento della categoria.